La votazione è chiusa. Presenti 407, votanti 359, astenuti 48, maggioranza 180, favore di 359. Contrari nessuno, la Camera approva. Ho bisogno del parere sul 15.300, relatore. Favorevole il Governo? Favorevole. Bene. Qualcuno intende intervenire sul 15.300 della Commissione? Non mi pare. Lo pongo in votazione con il parere favorevole, relatore del Governo. La votazione è aperta. Malisani. Onore Ciprini, si affretti. Grazie. Marotta. Marotta. La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 311, astenuti 106, maggioranza 156, favore di 311. Contrari nessuno, la Camera approva. Siamo all'articolo 15. Articolo 15. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate. La votazione è chiusa. Presenti 411, votanti 355, astenuti 56, maggioranza 178, favore di 354. Contrari 1. La Camera approva. Siamo all'articolo 16. Non ci sono emendamenti. Qualcuno intende intervenire? Non mi pare la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Chi è? Già manco. Gigli. Altri? Sì. Amo Dio. Beni. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 418, votanti 379, astenuti 39, maggioranza 190, favore di 379, contrare nessuno, la Camera approva. Articolo 17. Qualcuno intende intervenire? Non mi pare. Lo pongo ai voti. La votazione è aperta. Grazie. Grazie. Grazie.